Ciao a tutte, ben ritrovati nel nostro angolo dedicato alla creatività. Siamo qua in compagnia della nostra amica Francesca Ghidini, la nostra esperta di dolci, dolcetti, mani in pasta. Francesca, cosa ci fai vedere oggi? Fai sempre delle cose bellissime che mi stupisci sempre con una facilità incredibile. Allora, oggi vi faccio vedere dei fiori, delle gerbere principalmente e anche delle rose canine, chiamiamole così. Benissimo, cosa serve? Allora, per fare questo tipo di fiori serve la pasta da modellaggio. Pasta di zucchero da modellaggio? Da modellaggio, sì, colorata possibilmente. Però si compra bianca, giusto? Si compra bianca e poi si compra bianca. Ci sono dei colori in polvere o in gel, decidete voi cosa usare, è indifferente. Poi servono degli stampi ad espulsione, dei tagliapasta fatti a forma di garofano, queste qui, delle coppette appoggia petali e altri piccoli strumentini che poi durante la spiegazione vi farò vedere. Allora, innanzitutto si parte dal centro del fiore, è un piccolo bottoncino, fatto sempre di pasta di zucchero da modellaggio marrone. La pasta di zucchero deve essere necessariamente da modellaggio perché tiene di più la struttura dei petali. Allora, partiamo da una pallina, non molto grande, altrimenti dopo diventa troppo grande il petalo. Poi prendiamo questo calco in silicone che ha vari fiori, io lo utilizzo proprio per dare la forma del bottone. Lo schiaccio bene in modo da dare proprio il, adesso non l'ho centrato, scusatemi perché storta. Ecco, diamo proprio la forma del centro del nostro fiore. E lo lasciamo ad asciugare, rotondiamo un attimo. Poi si passa ai petali, dobbiamo fare tre petali con questo stampo che è uno stampo d'espulsione del girasole a dire la verità, però noi lo utilizziamo. Certo, anche perché se nascono per fare un fiore possono farsene tanti altri. Poi lì dipende anche un po' dalla fantasia e un po' dall'esperienza, ma comunque tutti gli tagli a pasta sono proprio fatti apposta per fare... Più fiori. Più fiori. Perfetto. Allora, pasta di zucchero colorata di rosa, rosa tenue, scusami. Prendiamo il mattarellino. A questo punto dobbiamo fare tre petali, scusate, tre fiori a dire la verità, uguali dello stessa misura. Grandezza quindi. Sì, quindi abbastanza sottili, non tanto spessi, altrimenti diventa troppo grosso. Certo, diventa troppo grosso perché sono sormontati. Esatto, sì. Intanto io ne farò uno, così vi faccio vedere come si fa. Sì, e gli altri. Allora, mio stampo, lo appoggio sulla pasta, schiaccio bene e in questo caso proprio... Ah, vedo che con forza, con energia lo stacchi, ha tante punte. Esatto, bravissima. E sì, deve proprio tirare via tutto. Lavorare in questo modo quasi. Esatto, tolgo bene questo lato. L'eccedenza. L'eccedenza e poi schiaccio lo stantuffo e viene fuori il nostro fiore. Poi mi prendo il mio tappetino per i fiori, è un tappetino di mousse a doppia densità. Qua è un po' più morbido, dall'altra parte è bianca, un po' più leggero. Poi prendo il bone tool, che è questo strumento, e faccio questo lavoro. Adesso magari ci mettiamo così. Lo mettiamo a favore di Alessio. E faccio proprio questo piccolo movimento. Vai a grattare in un certo senso petalo per petalo per farlo alzare. Esatto, bravissima. Gli do un po' di vita perché sennò serve proprio piatto. Troppo piatto. Un po' troppo spiaccicato. Ecco. Una volta fatto questo lavoro, prendo un appoggia petali. Queste sono queste copettine. Sì, sono di diverse concavità e lo appoggio sulla coppetta. Perfetto. Lo lascio lì. Poi preparo gli altri fiori che hai già preparato. E li appoggio scambiando i petali. Certo, perché così si vedono non sovrapposti precisamente, ma leggermente. Perfetto. Adesso li rimetto qua, che era il loro posto iniziale. Li appoggio lì e li lascio asciugare. Quindi sono tre fiori uguali, come il primo che abbiamo fatto, che vengono messi uno sopra l'altro, ma in modo da vedere con i petali scambiati, per coprire completamente il tutto. Perfetto. Poi, sempre dalla nostra pasta di zucchero rosa, prendiamo l'altro stampo. Prendiamo questo stampo. E questo stampo si chiama? Lo stampo del garofano. Lo stampo del garofano. Sì. Sempre in questo modo tolgo bene, perché devo togliere proprio l'eccedenza e anche tutte quelle piccole bricioline di pasta che a volte non rimangono necessariamente sulla tagliapasta. Lo stacco dallo stampo e mi viene questo fiorellino. Perfetto. No, in questo caso, per la verità, non serve. Sì, perché devo tagliare, perché devo praticamente creare una sorta di sfrangiatura maggiore. Ok. E con il coltellino taglio proprio tutte le petali. Uno alla volta, piano piano. E in questo caso ne devo fare anche qui tre uguali. Tutti della stessa misura. Esatto. Tutti della stessa misura. Quindi il primo fiore, tre della stessa misura, messi nella nostra coppettina per prendere la forma. Sì. E tre di questi che devono essere tutti e tre sfrangiati, tagliuzzati sui petali, come stai facendo tu in questo modo. Esatto. È un lavoro un po' lungo, però... Certo. Ma non mi sembra comunque difficile, insomma. No, no, assolutamente. Anche perché non è necessario essere proprio precisi. Benissimo. L'importante è che venga una bella sfrangiatura. Ok. Allora, quando ho fatto la mia sfrangiatura, lo rigiro al rovescio, prendo la colla edibile, che anche prima, a dire la verità, i vari petali dovevano essere messi con la colla. Per incollare i vari strati. Questa colla è una specie di gelatina che si asciuga. Che è sempre una colla alimentare. Sì, la prendo il mio bottone che abbiamo fatto all'inizio. Sì, che ha già asciutto possibilmente. Sì. E avvolgo il bottoncino in questo modo. Perfetto. E poi con gli altri due strati lo attaccherò al... Esatto. Una volta che ho fatto gli altri strati... Certo. ...viene... Un bel bottone. Un bel bottone. Che è la parte centrale del nostro fiore. La parte centrale del fiore. Quindi... Che poi scommetto che va qui in mezzo, giusto? Esatto. Un goccino di colla. Perfetto. E poi lo applichiamo un netto un po' di più perché adesso questi sono asciutti. Per cui se non dovesse attaccarsi subito basta mettere un goccino di pasta... Una pallina di pasta fresca. Certo. Tra i due strati. Perché nella teoria dovresti farlo tutto assieme e farlo asciugare. Questo Francesca quanto tempo ci sta ad asciugare? Una notte. Una notte. Bisogna proprio lasciarlo nella sua vaschettina. Sì, perché così prende un po' la forma e rimane un po' rigido. Perfetto. Perché una volta che è asciutto dopo lo dobbiamo posizionare sulla fiore. Questo che fiore è Francesca? Questa è una gerbera. Questa è la gerbera. Sì. Adesso cosa ci fai vedere? Vi farò vedere come si può fare una rosa canina. Una rosa canina. Non mi veniva il nome. Allora... Ebbè ce ne sono talmente tanti di questi fiori. Possiamo partire innanzitutto dai petali. Anzi, facciamo così. Che facciamo prima? Verde. Sempre pasta di zucchero da... Poi si può fare la fantasia, insomma. Cioè se uno lo vuole rosa, verde, giallo... Lilla. Lo può fare del colore che vuole. Del colore che vuole. Perfetto. Verde stava bene con il rosa. Certo. In contrasto. Allora, stendiamo sempre la pasta. Sì. Tranquillamente. Anche questa è abbastanza sottile, non proprio... Certo, perché sono tanti i petali. Sì. Altrimenti poi dopo, siccome li dobbiamo un po' lavorare con il bulino, se il petalo è troppo spesso, se la pasta è troppo spessa, il petalo si allarga di più. Perfetto. Prendiamo uno stampo per i petali, delle rose. Questo è lo stampo per le rose. E tagliamo cinque, sei petalini. Benissimo. Oddio, adesso l'ho tagliato male. Va bene. Una volta che abbiamo tagliato il petalo, prendiamo il petalino, lo mettiamo sul nostro tappetino di... Certo, di mousse. Di mousse. Prendiamo il bulino, come vi dicevo prima. Ok. E andiamo a... A lavorare il petalo per petalo. Sì, in modo da allargarlo e dargli un po' una forma... Certo. Più naturale. Naturale, sì. Una volta che abbiamo fatto tutti questi petali, ne dobbiamo fare... Diversi. Sì, diversi. Praticamente due giri da cinque petali. Quindi dieci petali in totale. Esatto. Andranno... Proprio solo da un lato. E appoggiamo il secondo petalo. Bene. Creando così proprio tutta una... Mettere un petalo sopra l'altro. Esattamente. Una volta che abbiamo fatto tutti i nostri petali, prendiamo la pasta di zucchero gialla. Possiamo utilizzare sia dei pistilli finti, cioè sempre edibili più che commestibili, perché non si mangiano, non sono ad uso alimentare, però. Oppure creare dei piccoli pistillini in questo modo. Sempre con la pasta. Sì, facendo una piccola pallina, sulle dita andiamo a fare questo piccolo movimento e creiamo tanti piccoli pistillini da mettere nel centro, sempre con un goccino di colla. Francesca, io vedo che tu ci hai portato delle bellissime torte ricoperte di zucchero e così via. Io ti devo essere onesta, sono bellissime da vedere, però a me piacciono le crostate. Quindi, tu Francesca hai portato i fiori, io ho portato la torta e la bella crostata, che tutte le brave casalinghe, veloci e disperate, come me che non hanno tempo, se la vanno a comprare già fatta. Quindi, la mia torta comprata al supermercato, bella fatta, pronta. La possiamo decorare con i tuoi bellissimi fiori? Assolutamente sì. Perché non è detto che queste decorazioni devono essere per forza messe sulla torta ricoperta di pasta di zucchero. No, no, anzi, tutte le torte possono essere decorate con fiori. Una bella crostata sana, naturale, dimarvellata, quella delle nostre nonne. E possiamo semplicemente fare una piccola, diciamo, appoggio di pasta di zucchero, solo esclusivamente per non far toccare i fiori, per non sporcare i fiori di pasta e anche per farlo aderire meglio. Appoggiamo la nostra pasta di zucchero e poi andiamo a prendere i nostri fiori, mettiamo un goccino di colla sulla pasta, sì, tanto il pennellino era già con la colla, e lì appoggiamo adesso questo secondo. Quindi una semplicissima crostata fatta in casa o comperata già pronta può essere abbellita in un modo velocissimo con i nostri fiori fatti in pasta di zucchero. Beh, Francesca, le tue torte sono bellissime, niente da dire, io al massimo arrivo a questo, te lo devo essere onesta. Anche perché, insomma, non tutti hanno il tempo di potersi dedicare a fare queste meraviglie di queste torte. Questa cosa, questa torta invece è più veloce e simpatica, però è anche buona da mangiare. Francesca, io ti saluto, ti ringrazio tantissimo per le cose che ci insegni sempre. Vi ricordo che sul sito laravella.com trovate tutte le varie descrizioni dei prodotti che servono, sono acquistabili in tantissimi negozi, potete anche farvi la pasta di zucchero fatta in casa se siete capaci o se no potete acquistare le paste di zucchero o da copertura o modellabili che trovate in commercio. Questa che stiamo utilizzando noi è veramente buona, io l'ho assaggiata, è molto vanigliata e piace anche ai bimbi. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutte. Ciao Francesca. Ciao a tutti. Ciao a tutti.